Risaliva la selva di Sola, la montagna di Sola, riscendeva a Rendinaro, Rendinaro risaliva a Civitadantino, a Civitadantino esceva a Collelunghi, sopra, io alla villa, manco a Collelunghi, che a Collelunghi ci ha bruciato due volte l'archivio comunale. Perché erano Giacobini qua. E praticamente, quando ci fa fare la leva militare, per due volte ci ha bruciato l'archivio. In un'acquazione ci stavano 300 sociari che stavano facendo per le piane di Collelunghi. E lui è sceso dai Prato Santeria a Collelunghi, cogliendo l'occasione, e ha bruciato l'archivio di Collelunghi. Per due volte. Invece, a Villa Valle Longa c'aveva le basi, e gli hanno dedicato un museo. A Villa Valle Longa? A Villa Valle Longa. A lui, già l'avanti detto che ho. Dopodiché andava a pescare selva. E poi lo faceva.